In occasione del terzo appuntamento con Maggio dei Libri, evento organizzato e promosso dall'attivissima prologo potitese, arriva a bacco e bivacco Giuseppe Alessio Nuzzo, autore del libro dal titolo Cinema e Sogno. Eppure ci dovrei essere abituato, fin da ragazzo, o isolato o solo, che poi è la stessa cosa, ma certo che conti, so che è tutto così assurdo, secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo, come si dice, stavo per commettere una sciocchezza, mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui vicino, non è sicuro la vita, qualunque sia, vale la pena di essere vissuta, si dice questo. Questa sera San Potito Sannitico per la presentazione di Cinema e Sogno, un lavoro veramente certosino, lo potrei definire, ma come nasce l'idea? L'idea nasce da una passione sconfinata per il cinema, la settima arte fa sognare, fa riflettere, fa pensare. Io da quando ero piccolo, da una decina di anni, raccolgo le più belle frasi del cinema su un quaderno, quando torno dalla sala, dal cinema, le raccolgo su questi quaderni che sono diventati tantissimi. Poi per un lavoro sono stato ad intervistare Gianluigi Rondi, che è il presidente Davide Donatello, è stato direttore della mostra del cinema di Venezia. Parlando di questa passione, di questa mania quasi di raccontare e di raccogliere le frasi del cinema su dei quaderni, ha detto, ma perché non ne fai un libro, perché non le raccogli? Il cinema italiano ha bisogno di qualcosa che possa raccontare e testimoniare quello che è stato fatto negli anni. e raccontare alcuni film che certe volte si dimenticano, soprattutto le nuove generazioni dimenticano. E da lì è nata questa corsa a raccogliere in un testo quasi 1500 frasi, 500 film, 200 registi, tutti rigorosamente italiani, un tributo a quello che è il cinema della nostra nazione. Titolo meraviglioso, accostamento classico tra il mondo onirico, il mondo del sogno e il cinema. Perché pare che il cinema sia proprio la rappresentazione del sogno? Certo, assolutamente, c'è un doppio significato. Il cinema è sogno perché fa sognare i giovani registi, sognano insieme al cinema, le persone che vanno in sala, diciamo, davvero si lasciano cullare sulla poltrona e si godono dello spettacolo che lo schermo ci riporta. E poi anche perché c'è proprio un accostamento, molti psicologi parlano che c'è un accostamento proprio fisico tra il cinema e il sogno e il dormire, diciamo l'atto del dormire, perché quando si entra in sala si abbassano le luci, quindi come ad esempio la palpebra si chiude quando stiamo per andare a dormire. E poi da lì inizia il film e parte, insomma, la visione del nostro sogno. E poi io direi anche che c'è una terza motivazione perché il libro nasce solo cartaceo, non esiste una versione ebook del libro proprio perché l'idea di fermarci un attimo, lasciare stare il mezzo tecnologico che certe volte, insomma, accompagna la nostra giornata, forse troppo, e dedicarci a prendere il libro in mano prima di andare a dormire, prima di iniziare a sognare, e farci accompagnare dalla lettura di qualche frase che magari ha rappresentato degli importanti pezzi della nostra storia. Io non posso che farle i complimenti e ringraziarla. Grazie mille, grazie a voi per l'ospitalità. Una che ha passato la vita a mettere insieme il pranzo con la cena, combattere con le finestre senza vetri, con l'umidità, con tutti i guai che sapete meglio di me. E anche se, come dite, che è merito mio, che abbiamo una casa, che neanche ci sognavamo di averla, ho capito che questo non è il sistema per fare l'onorevole. Per quello che mi riguarda, poi mi sono accorta che per fare la politica, la famiglia, mi andava per aria e io ai ragazzini miei ci tengo e me li voglio tirar su, come mi pare. Francesco, terzo appuntamento con Maggio dei Libri, una bellissima iniziativa della quale vorrei ci parlassi. Sì, il Maggio dei Libri è un'iniziativa a livello nazionale che promuove la lettura dei libri. Il problema della lettura in Italia, insomma, è molto sentito. Il quotidiano maggiore in Italia, penso, raggiunga poche centinaia di migliaia di lettori. Quindi c'è un problema serio sulla lettura dei libri. E penso che manifestazioni come questa del Maggio dei Libri, anche diramate su tutto il territorio nazionale, servono ad incrementare la lettura. Qui a San Bodito ormai stiamo partecipando a questa manifestazione da tempo. Quest'anno abbiamo avuto un ottimo riscontro perché abbiamo partecipato, abbiamo invitato le persone nei bed and breakfast, no, negli agriturismi. E quindi c'è stato anche un'unione tra la cultura del cibo e la cultura della lettura. Grazie Francesco. E speriamo che San Bodito continui sempre a fare in modo che queste iniziative meravigliose vengano promosse. Sì, sicuramente non ci fermeremo. Si lavorerà ad ampio raggio su quella che è non solo la lettura, ma anche un sentimento di benessere per il paese. Cioè vivere bene in un paese dell'Italia interna. Oggi questa è la nostra sfida, cioè pensare ad un paese di 2000 abitanti che si pone come prototipo, come di uno stile di vita, uno stile di vita che è sereno e anche affondato sulla bellezza. Da San Bodito Sannitico è tutto, Luisa Porto per casertasera.it